Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, segnaliamo rallentamenti tra Monte San Savino e Arezzo per lavori. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e ristringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1 di Firenze in Pruneta. A causa di due frane sulla statale 12 della Betone e del Brennero, chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo Ammozzano e sulla statale 64 Forrettana, chiuso sempre in entrambe le direzioni, il tratto tra Pavana e Ponte della Venturina. A Firenze, in viale Piombino, in viale Etruria fino al 23 marzo per lavori, restringimenti di carreggiata a tratti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!